Forza ragazzi, facciamo gol alla disabilità! BOLO! Il progetto Facciamo Gol alla disabilità nasce nel 2011 da un'idea dei dirigenti della polisportiva Borgosolestà per dar moda a ragazzi con disabilità di giocare a calcio. Nel corso degli anni sono state numerevoli le iniziative e le attività intraprese. Dal 2017 la nostra squadra fa parte del torneo di quarta categoria e dal 2018 i ragazzi sono stati adottati dall'Ascoli Calcio partecipando al torneo federale con il nome di Ascoli4Special. Il nostro obiettivo principale è stato e sempre resterà quello dell'integrazione e dell'inclusione attraverso lo sport. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi! Anche l'Ascoli Calcio sostiene Ascoli4Special! Finite! Ascoli Calcio da noi! Noi veniamo! Per saperne di più, rivolgetevi alla polisportiva Borgosolestà o visitate i nostri social. Anche l'Ascoli Calcio!